E allora amici di Calciopasso siamo al novantesimo, Roma-Samp 1-0, gol di Dzeko che oggi è stato fino al gol un difensore aggiunto per la Sampdoria, mi ricordo quando ha levato una palla a Smalling nel primo tempo, mi ricordo quando a tu per tu nell'area piccola ha tirato in bocca di testa Audero, però poi quando si è trattato ed è testimone, testimone PF di Roma-Griuk, l'ho taggato nel gruppo scritto ragazzi oggi grande difensore della Sampdoria, Marco-Mammo segna, passato un minuto, Calciop gli ha messo una palletta, un cioccolatino e voglio sottolineare le prestazioni sempre in crescendo da parte di Calciopo perché io so tipo che ammette quando sbaglia l'ho giudicato male, ma evidentemente comunque il fatto che ha perso 7 kg, il fatto che non si sta infortunando e da continuità alle sue prestazioni sta crescendo sempre di più e diventa un elemento veramente importante e a livello difensivo perché comunque ha dei recuperi di strapotere fisico che mi ricordano un po' quelli che c'aveva Sebino Nela e poi perché comunque fa questi assist con pallette sempre insidiose. Ed oggi il 50% del gol è suo in un campo assurdo dove comunque ha piovuto dall'inizio alla fine ma anche prima in alcuni tratti nel secondo tempo la palla era ingiocabile ma oggi la Roma si sta, si sta perché non è finita strameritando di vincere e mi eccitano molto più partite come queste e lo sottoscrivo, l'ho detto anche a suo tempo, che partite come quelle di Bologna perché questo, innanzitutto questo è un avversario fastidioso, squadra dei Ranieri lo sappiamo, poi in più, che difende con 11 davanti alla porta, in più c'era sto campo così e sappiamo quanto sia difficoltoso per la Roma che comunque ama gli fraseggi stretti soprattutto nel secondo tempo la palla non veicolava più partite con quelle di oggi mi eccitano perché ho visto in campo gli uomini uomini con la U maiuscola o Omini con la O maiuscola con dei testicoli così grossi finita, finita ragazzi e quindi ripeto, gol da centramanti vero da parte di Edingeco che ha fatto solo quello ma quando è importante si vede la differenza tra il campione e il quacquara qua sontuosa prestazione meravigliosa da parte di Gonzalo Villar quindi Villar, Kasdorp Mkhitaryan che non si è fermato un attimo buona prestazione anche da parte di Lorenzo Pellegrini che comunque è presente in parecchie occasioni importanti da parte della Roma buona prestazione anche da parte dei difensori Paolo Lopez una volta è stato impegnato su un tipo di Candreva e una volta si è disimpegnato bene forse ecco Bruno Perez però Bruno Perez è più di quello ogni pochino è giocatore limitato e più di quello non può fare anzi complice anche l'assenza di Calafiore di Sant'Onne comunque ce lo siamo dovuti subire ma se neanche ha fatto un buon recupero nel secondo tempo e qui Bruno Perez è questo io spero insomma che sul mercato si possa porre fine a questa situazione dannosa però ecco veramente complimenti complimenti ragazzi complimenti a Fonseca i presaggi negativi ci stavano tutti perché oltre alla pioggia oltre alla Sampdoria del catenacciaro Ranieri insomma che gli vogliamo bene tutti ma il calcio è un'altra cosa e oltre al fatto che comunque per DNA la Roma le partite dopo la sosta le toppa e gennaio di solito è un mese di merda sta sovvertendo un po' tutte queste situazioni la Roma di Fonseca che ripeto se fa un mercato con un paio di tasselli messi bene sto zitto allora allora